buon poveriggio a tutti i belli brutti da michelone che questa testa un testone bruttissimo oggi e video fatto non di mattina presto stavolta appena finito di lavorare ragazzi tutto puzzolente qua allora come la va ragazzi video velocissimo giusto per augurarvi una buona una buona partita contro l'empoli una partita sono già in clima sono già in sono già in fastidio quando 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 ti ricchio queste cose qua ogni tanto e vuol dire che sono nervoso sono nervoso sono nervoso anche perché giochiamo contro una squadra che come dice bene tiago motta nel che non bisogna sottovalutare nessuno tutte le partite sono particolari tutte le partite sono difficili nessuna partita è scontata quindi e poi lo sapete benissimo empoli che batte la roma e noi con l'empoli abbiamo finito quella quel trend di partite che l'altrano avevamo provato a diciamo a stare dietro quelli la dopo ovviamente dopo quella partita lì io ripeto non lo so cosa è successo in quello spogliatoio la non lo so non lo so non lo so è strano strano anche da da parlare perché dice un pareggio può succedere un pareggio una partita storta ma poi da lì abbiamo avuto una 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 da secondi tranquilli che eravamo avevamo il milan a sette punti dietro abbiamo finito sotto il milan di sette punti una roba del genere anche 14 punti abbiamo perso nel girone di ritorno una roba scandalosa una roba una roba vergognosa che una roba che la juventus non può fare queste figure di merda qua comunque io ho visto la 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 cosa lì di tiago motta la conferenza stampa dal nostro amico rasto il nostro amico vittorio ho visto ieri la conferenza stampa e ragazzi questo è tosto però è vedo che cercano di metterlo in difficoltà con qualche domandina ma con questo qui non fai tacca è questo qua questo qua è così è così e basta almeno non sentiamo più le stronzate che diceva che diceva quell'altro un passettino alla volta un pezzettino no vi ricordate no tutte le muine di quell'altro no almeno questo qui dice cose anche se qui io non so veramente questi giornalisti sono scarsi ma che domande di merda fate ma che domande di merda fate sempre quelle che facevate anche al becca morto io non lo so ma non avete una una domanda tecnica da fare i giocatori come giocherai 4 2 3 1 la differenza fra un modulo light o se preferiresti giocare così e quelli ma non avete le domande un po un po un po domande domande come dio comanda diciamo dalle nostre parti insomma allora oggi ci mancano solo quei due li mili che ovviamente è consensato qualcuno è in ritardo ovviamente è arrivato tardi per via delle delle partite del sudamericani soprattutto colpa di queste nazionali del cazzo però ho una sensazione positiva ripeto speriamo che quelli in campo sono curiosi di vedere questo copp myers se in coso e sei in forma adesso si è entrato un po in forma e questo douglas lewis che era che era relegato in panchina perché era ancora fuori condizioni poi ovviamente il resto il resto ragazzi mi pare che che siano in forma quindi no la formazione bene o male è quella lì e niente ragazzi vi auguro una buona partita ci vediamo stasera dopo della partita ovviamente io a quell'ora lì sono a lavorare perché le sei sono a lavorare tornerò a casa farò il video tornerò a casa il video video serale anche tardino verso le 10 perché finisco nove nove e mezza quindi che purtroppo il lavoro mio è così e ci vediamo stasera sul tardino è speriamo di non bestemmiare non bestemmiare perché ti ripeto guarda che c'è che è qui è mo tiago tiago spero di non attivarla mai è spero di non attivarla mai attenzione tiago è perché se ti ho fuori la piazza sono cazzi è ciao ragazzi un bacione a tutti belli brutti iscrivetevi al canale vi prego iscrivetevi al canale like campanellina supportate il canale abbonatevi il canale perché potete vincere la maglia della vostra squadra del cuore e poi perché con michelone state bene ciao ragazzi fatti bravi